Ciao a tutti e benvenuti sul canale. In questo video vi è riassunto di un evento in particolare della nostra serie tv preferita Terra Amara. Prima di iniziare non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi alcun contenuto che pubblichiamo di vostro interesse. E ora immergiamoci in questa serie piena di colpi di scena. Nel cuore della notte Demir si risveglia e sente subito qualcosa di strano. È come se qualcuno avesse interferito con la sua realtà, tanto che si accorge di essere ancora vestito con gli stessi abiti della sera precedente. Dopo essersi lavato il viso comprende immediatamente ciò che è accaduto. Qualcuno ha portato via i bambini, Zuleila se n'è andata insieme ad Adan e a Leila. Nella disperazione più totale Demir inizia a gridare Maserda lo raggiunge e cerca di consolarlo. Intanto Zuleila e i bambini felici continuano il loro viaggio credendo di aver finalmente realizzato il loro sogno, ma in realtà li copisce quando la polizia li ferma e li riconosce. La loro fuga giunge al termine qua. Ma convinti che ci sia Demir dietro a tutto questo, Ilmaz e Zuleila meditano una vendetta. Tuttavia, quando vengono invitati a incontrare il procuratore scoprono una verità sconcertante. Demir non c'entra nulla. Nell'ufficio infatti sono presenti Fekeli e Mujigan. La dottoressa, avendo capito la situazione, li ha denunciati alla polizia. Fekeli, in preda all'Ira, si avvicina a Ilmaz e lo respinge come figlioccio. Le loro strade si dividono e non sarà più la stessa cosa. Intanto Mujigan riprende il suo bambino e insieme a Fekeli se ne va. Poco dopo arrivano anche Demir e Sevda, avvisati dalla polizia. La famiglia Yaman riabbraccia i suoi bambini, mentre Zuleila, in preda alla disperazione, prende una decisione difficile. Intanto Mujigan torna finalmente a casa con il suo piccolo Kerem. Pronta a proteggerlo da chiunque cerchi di dividerli, con un cuore gonfio di gioia. Mujigan si avvicina al suo bambino, sapendo che nessuno potrà più toglierle il suo amato bimbo. Nel frattempo Fekeli si scontra con i suoi sentimenti più profondi e dolorosi e si sfoga con Fikaret, rivelando il suo cuore spezzato a causa di Ilmaz che l'ha deluso nel modo più crudele. Ilmaz ha sottratto il loro figlio alla madre e se ne è andato senza dare spiegazioni, un tradimento inaspettato che ha ferito Mujigan a fondo. Nel bel mezzo delle lacrime e delle emozioni travolgenti, Fikaret cerca di essere un sostegno per Fekeli, cercando di calmarlo e offrendogli un raggio di speranza nella vicenda così buia. Finalmente lo Yaman ritornano a casa, riportando un misto di gioia e tensione nella villa. Demir prende una decisione importante, dichiarando che i bambini dormiranno nella sua stanza e si prenderà cura di loro. Zuleyla è disperata, incapace di sopportare la lontananza dai suoi figli amati. Si confida con Sevda, raccontandole la struggente storia d'amore con Ilmaz, ma soprattutto rivelando alla donna le volte che Demir le ha portato via i suoi bambini. Sevda, in lacrime, comprende bene la sofferenza di Zuleyla, condividendo la sua stessa angoscia. Le rivela di avere una figlia che l'è stata strappata via e che non ha mai potuto riabbracciare. Questo grande dolore le pesa nel cuore e questa è la grande rivelazione di Sevda a Zuleyla. Più tardi, quando la tensione sembra al culmine, Demir interviene, rassicurando Zuleyla che non ha alcuna intenzione di separarla dai suoi bambini. Le promette che la sua famiglia non verrà spezzata. Il giorno successivo Ilmaz si recca a casa di Fecheli per chiedere perdono per i suoi errori. Tuttavia, il padrino è troppo deluso da lui e rifiuta la sua richiesta di scuse, chiedendogli di andarsene e non poter più rimanere nella sua casa. Il giovane sconvolto, con il cuore spezzato, decide di andarsene e si recca la tenuta a Yaman. Nel giardino trova Adan, che gioca a pallone con Demir. Vedendo il bambino, non può fare a meno di osservarla e quando Adan lo vede, corre da lui per abbracciarlo affettuosamente. Tuttavia, Adan ritorna subito da Demir, facendo trappellare il fatto che sia legato a entrambi gli uomini. Nel frattempo, Zuleyla osserva di nascosto. Mentre in cucina si discute, Sani e scopre che Demir ha detto ad Adan che Sevda è sua nonna. Questa notizia sconvolge Sani e che fatica ad accettarla. Infatti, pensa che Unkar sia stata sostituita del tutto. Ilmaz è disperato e trova conforto con Fikkeret, confidandogli le sue profonde emozioni. Fikkeret è preoccupato per la situazione. Decide di parlare con suo zio Fecheli. Lo supplica infatti di perdonare Ilmaz, ma inizialmente l'uomo è irremovibile. Tuttavia, qualcosa fa cambiare idea a Fecheli. Una misteriosa lettera inviata da Ilmaz prima della sua partenza con Zuleyla. Le parole dolci e sincere contenute nella lettera menzionano Fecheli che decide di raggiungere il suo figlioccio e concedegli il perdono. Ilmaz può finalmente tornare a casa, ma sa che dovrà dimostrare di essere cambiato. Ilmaz ha scritto anche una lettera a Demir e Mujigan. Nella lettera scritta a Demir esprime il desiderio di lasciare il paese con Zuleyla e i bambini. Nonostante i rimproveri per il dolore causato, Ilmaz promette di far vedere Leila e Adam e Demir se si comporterà bene. A Mujigan invece ha scritto che l'ha sempre ammirata e che sicuramente è cambiata a casa sua perché è stata causa delle sue sofferenze. La sera si avvicina e una scena commovente si svolge nel cimitero dove Yaman e Fecheli si incontrano davanti alla tomba di Unkar. Demir in lacrime parla della lettera ricevuta da Ilmaz e ammette di aver compreso i suoi errori. Sente di essere cambiato dopo la morte di sua madre e vuole rimediare ai suoi sbagli. Fecheli mostra soddisfazione per questa rivelazione e incoraggia lo Yaman ad andare avanti. Dopotutto la vita scorre e l'esperienza della perdita ha portato Demir a una maggiore consapevolezza. Le famiglie si trovano di fronte a cambiamenti sconvolgenti. Fecheli fa un annuncio che lascia tutti senza parole. Mujigan, Kerem e lui vivranno insieme. Ilmaz invece dovrà trasferirsi in una nuova casa ma avrà l'opportunità di incontrare i suoi fratellini Adam e Leila e portare Kerem per farlo crescere con loro. La notizia è sorprendente e Mujigan appare contenta della decisione presa. Ilmaz, sebbene inizialmente sorpreso, si dimostra soddisfatto della soluzione trovata, sapendo di poter vedere i suoi cari ogni volta che vorrà. Ora tocca solo a Demir divorziare da Zuleyla e lasciarla libera. E la famiglia di Fecheli attende con ansia questo momento. Le anticipazioni lasciano tutti con il fiato sospeso perché la situazione si fa sempre più intrigante e complessa. Ma cosa riserverà il futuro per i nostri personaggi? Quale sarà il destino di questa famiglia divisa ma destinata a incrociarsi ancora? Voi cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti qui sotto e scoprirete poi tutte le risposte nelle prossime anticipazioni di Terra Amara. Quindi non perdete le sorprese e le emozioni in arrivo in questa coinvolgente serie tv. Fateci sapere cosa ne pensate e iscrivetevi al nostro canale per non perdere nemmeno un istante di questa trama avvincente. Grazie e al prossimo video!